Gagarin Reviewer Gagarin Reviewer 12 aprile 1961. Il cosmonauta russo Yuri Gagarin sale sulla Vostok 1 e viene lanciato nello spazio. Prima di lui ufficialmente i sovietici hanno lanciato nello spazio sette razzi, Tre sono tornati a terra, quattro sono esplosi. Eppure Yuri sale sulla vostra cuno ed è contento e dice più o meno tutto quello che ho fatto nella vita si sta per condensare qui adesso, in questo meraviglioso momento. Tutto quello a cui ho pensato, tutto quello che ho progettato fin qui, si sta per realizzare. Yuri raggiungerà l'altitudine di 302 km dalla superficie terrestre, la velocità di 27.400 km orari, completerà un'orbita ellittica della Terra e tornerà qui. Dopo poco meno di due ore atterrerà con il suo paracadute su un campo di patate. Nell'oblast di Saratov, vicino al villaggio di Smelovka, su un'ansa del fiume Volga, i primi terrestri che incontrerà saranno una contadina di nome Anna e la sua nipotina di sei anni. E' iniziata l'era spaziale. Dopo questo volo di Yuri Gagarin, le reazioni furono molte. Per esempio, qualche anno più tardi, il 24 dicembre del 1967, sul Corriere della Sera, Anna Maria Ortese scrisse una lettera aperta a Italo Calvino. Italo Calvino che aveva appena pubblicato Ticconzero, che come saprete è il seguito delle cosmi comiche. e Ticconzero, in linguaggio scientifico, significa il momento in cui ho cominciato a osservare. E Anna Maria Ortese scrive, più o meno, Tutte le volte che sento parlare di voli spaziali, mi sale l'ansia, la paura, la noia, lo sgomento. Insomma, anch'io, come ogni altro essere umano, mi sono fatta delle domande sull'universo, sul suo inizio, sulla sua fine, e i silenzi che ho avuto in risposta li ho trovati consolatori. E allora, adesso, vedo, scrive Anna Maria Ortese, lo spazio sottratto ai nostri sogni. Non la dice proprio così, lei dice sottratto al nostro desiderio di beltà. E trasformato in uno spazio edilizio, in un territorio di conquista, ecco, questo non mi piace. Sulle stesse pagine del Corriere della Sera risponde Italo Calvino, sempre con una lettera aperta, in cui dice, più o meno, io non pretendo che ci sia passioni all'esplorazione dello spazio. Però questo mi interessa per tutta la scienza che c'è dietro, per la conoscenza che produce, e per come questa conoscenza ci ridefinisce, ridefinisce noi esseri umani e lo spazio extraumano intorno a noi, come ci porta a ridefinire persino la Luna. E poi, dice Italo Calvino, tutto questo ridefinisce anche il nostro immaginario, il nostro linguaggio, che sono territori propri della letteratura, e ovviamente questo mi interessa molto. Allora, l'obiezione di Anna Maria Ortese è un'obiezione che noi, che facciamo scienza, ci sentiamo rivolgere spesso. La scienza, con la sua esplorazione della natura, con la sua spiegazione delle cose, ruberebbe lo spazio ai nostri sogni, spoetizzerebbe la natura, la sottrarrebbe al desiderio di beltà. Lasciate da parte la risposta che dà Italo Calvino e facciamo un passo avanti. E allora adesso, 20 luglio 1969, l'astronauta americano Nils Armstrong poggia il suo piede sinistro sulla superficie della Luna. Quell'impronta è ancora là, è ancora sulla regolite, che è la sabbia della superficie della Luna. Nils Armstrong, prima di quell'impronta, ha viaggiato per quattro giorni, è stato lanciato da Kate Canaveral con i suoi due colleghi. Lui è il comandante della missione Apollo 11, con lui ci sono il pilota del modulo di comando Columbia, che è Michael Collins, e il pilota del modulo lunare, LM Eagle, quello che toccherà poi la superficie lunare per secondo, cioè Basaldrin. Dopo aver toccato la Luna, Nils Armstrong torna indietro e dopo quattro giorni ritorna qui sul nostro pianeta. Lui non atterra, lui ammara, cioè si butta nell'oceano Pacifico. Quindi probabilmente i primi terrestri che avrà incontrato saranno stati dei pesci. In ogni caso è iniziata, scusatemi, in ogni caso l'essere umano ha conquistato la Luna. Ecco di nuovo tante reazioni. Questa volta pochi giorni dopo, nell'agosto del 1969, Pierpaolo Pasolini scrive sulla sua rubrica che si intitola Il caos sul quotidiano e il tempo, una cosa che dice più o meno così. Beh, la conquista della Luna è sicuramente una grande notizia, ma come mai non interessa nessuno? Io sono qui, sul set di un film, dice Pierpaolo Pasolini, e saremo circa 40 persone, più ci sono le maestranze. Bene, nessuno ne sta parlando e anche sul giornale trovo molto più spazio dedicato alla partita Milan-Manchester. E poi, prosegue Pasolini, a me fastidisce anche il nome Apollo, un richiamo umanistico assolutamente inadatta, un'impresa che è solo tecnologica. E poi mi stanno sulle balle gli astronauti, così borghesi, con questi figlioli biondi e le mogli che servono il caffè. Tante altre reazioni, ma una tra le tante fu una specie di risposta implicita a Pierpaolo Pasolini, ed è quella di Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti ha 81 anni in questo momento e non è mai stato un personaggio votato all'ottimismo. Ha avuto una vita anche complicata, orfano, la guerra, ha perso due figli. Insomma, Giuseppe Ungaretti. Eppure in quel momento è lì che brinda e si fa fotografare da un importante fotografo, brinda col televisore. Televisore che trasmette le immagini dell'allunaggio. Ecco, furono in tanti, dicevo, a reagire alle immagini della conquista della superficie lunare. E già in questo smentirono quello che diceva Pierpaolo Pasolini, cioè che la cosa non fosse per niente interessante. Alcuni intellettuali italiani erano peraltro negli studi RAI, proprio quella notte, altri ne scrissero in articoli. Tanti ne scrissero nei loro libri o fecero percolare l'esperienza lunare nei loro testi. E non pensiamo soltanto a Calvino e Rodari che sono i primi che ci vengono in mente. Bene, in tanti reagirono e una domanda per tutti era di fondo. E questa domanda è di nuovo una domanda che noi che ci occupiamo di scienza ci sentiamo spesso fare. Perché? Perché lo facciamo? Perché dovremmo farlo? Perché spendiamo tante energie in cose come questa? Però le tante risposte vi cito quella di Primo Levi. Primo Levi non ebbe né una reazione entusiasta, né una reazione di biasimo alla conquista della Luna. Lui scrisse più o meno. Ci sono tante ragioni per farlo, ma una tra tutte le guida, sta dietro le altre. Ed è la nostra oscura obbedienza a un istinto nato con la vita e alla vita necessario. Lo stesso istinto, anzi lui dice impulso, che spinge i semi del pioppo ad avvolgersi di bambagio e a volare nel vento. Cioè l'impulso a sparpagliarci. Ecco, la risposta che dà Primo Levi è una risposta che io trovo particolarmente interessante. Si parla della nostra natura e si dice che la nostra ricerca sulla natura fa parte della nostra natura. Insomma, è la natura che guarda se stessa. In questo come fa a essere poco interessante o a far mancare di poesia alle cose? È una risposta che è stata data tante volte nel corso appunto del Novecento, che è stato un anno di grande scienza. Vi cito un altro importante scienziato, anzi un importante scienziato. Lui è stato un premio Nobel tra i più importanti per la fisica nel secolo scorso, Richard Feynman. Lui in una trasmissione radiofonica raccontò più o meno. Ho un amico poeta. L'amico poeta mi dice che noi scienziati rubiamo la poesia ai fiori. E io gli ho risposto così, beh no, come essere umano, anch'io vedo la poesia nel fiore, non puoi negarlo, non puoi dire che io vedo cose diverse da quelle che vedi tu. Però io posso affermare di vederne di più, perché le vedo su un altro livello, per esempio sul livello microscopico. Posso farmi domande, per esempio sul colore dei petali del fiore e anche su come gli insetti li riconoscano. E in questa cosa, nel colore del petalo e nell'insetto che lo riconosce, io vedo una meravigliosa storia d'amore, la storia di una coevoluzione. E allora conclude Feynman, io non vedo proprio come la scienza possa togliere qualcosa al mondo, semmai aggiunge. Ecco, questa è una risposta che chiama in causa appunto la nostra naturalità e che secondo me dobbiamo tenere sempre di conto. Se chiudiamo gli occhi di fronte al nostro istinto di fare ricerca, di cercare, di capire le cose intorno a noi, perdiamo molto anche di noi, e anche del nostro, come diceva Anna Maria Ortese, desiderio di beltà. Ve lo dico con le parole di uno, sì, dei grandi scienziati di sempre, di Giovanni Keplero. Keplero scrisse più o meno, i modi in cui gli uomini si sono interrogati sulle cose celesti sono altrettanto meravigliosi delle cose celesti stesse. Insomma, siamo sempre noi, è sempre la nostra natura, siamo sempre lì. Certo, bisogna dire una cosa, la scienza non la facciamo soltanto perché è wow, è wow, ma è anche molto utile, risolve i nostri problemi, pensate alla ricerca biomedica, migliora la qualità delle nostre vite, ci fa fare cose che altrimenti non potremmo fare. E poi sì, è vero, ogni tanto la facciamo anche perché ci dà ricchezza o la facciamo anche come è stato parte nel caso dell'esplorazione dello spazio per ragioni militari e non dobbiamo negarlo. Ed è anche vero che dobbiamo farci insieme delle domande, dobbiamo cercare insieme delle risposte, insieme. Ma tutto questo non è meno wow, è molto naturale anche questo, è molto umano anche questo. E poi c'è un'ultima cosa che vi voglio dire, che forse è quella che avrei dovuto dire subito nel mio ruolo, cioè ci sono quelli come me che hanno il compito di raccontarla la scienza, perché tutto questo, anche il modo con cui ne parliamo, dipende dal modo con cui la raccontiamo. E uno dei nostri compiti è anche quello di parlare alle Anne Maria Ortesi tra voi, o ai Pierpaolo Pasolini tra voi, cioè a quelli che hanno un po' paura, un po' di fidenza, un po' pensano di poterne fare a meno, per cercare di convincervi che tutto sommato no, no, guardatevi, siete degli esploratori, siamo esseri umani, siamo fatti così, come mai guardare il resto della natura dovrebbe essere meno naturale che farlo seguendo un istinto che è molto naturale. E allora proviamo a riraccontarla. Torniamo lì, un po' più di 60 anni fa, su quell'anza del Volga, oblast di Saratov, villaggio di Smelovka, un campo di patate. Ci sono due esseri umani che si incontrano. Uno è Yuri Gagarin, è l'uomo del momento, ne sta parlando tutto il pianeta, è stato extraterrestre per due ore e poi è atterrato lì. Un'altra è una contadina, Kina, sulle sue patate insieme non è la sua nipotina. Peraltro lei è anche molto spaventata, quindi lui si deve presentare, lei capisce chi è, ma insomma lo sapete cosa fanno un istante dopo? Un istante dopo essersi guardati e riconosciuti e capiti come esseri umani. Beh, si abbracciano e in quell'abbraccio io credo che ci fosse quell'emozione molto umana che ci guida a cercare le cose. E sapete qual è? La meraviglia. Grazie.